Tu vuole una roba devastante, cioè che non se l'aspettano, velocissima... Hai voglia tu? Proviamo! Proviamo, proviamo, dai, tutto per tutto! Vai, vai, vai! Secondo me ce la puoi fare, Lillo! Yuhuu! Sono qui, Daft Punk! Salve! No, Lillo! Vabbè, niente, quindi... Però, messaci un attimo, capito? Anche perché è un tormento, l'ho già fatto pure prima, capito? Quindi, rifacendolo... Eh, allora perché lo avevamo già... Forse funziona di più così, però... Vediamo... So Lillo! È andata, vabbè ragazzi, complimenti, siete fortissime! Ciao Lillo! Fortissime proprio! Che uscita di scena pazzesca, eh! Eh, è impossibile! No, ma è l'atteggiamento che ha avuto, è l'arroganza che lo frega! No, però è stato modesto! Ah, allora non è stato arrogante! Io cambio opinione subito! Ha funzionato alla grande, io te l'avevo detto! Qua siamo morti! No ragazzi, ormai sono delle statue! So Fedez! Non può essere che mi vanno riconosciuti, anche perché io e Fedez fisicamente siamo identici, capito? Ben fatti, longilinei... Catroia! Bravo Lillo! Ti giuro la delizia!